Noi motociclisti siamo fatti così, adoriamo la personalizzazione. Pensiamoci un attimo, una nuova moto per quanto tempo rimane originale? La prima cosa che cambiamo solitamente è lo scarico, gli specchietti, il porta-targa che di serie fa schifo. Ci piace dare il nostro tocco personale a tutto, ma per il casco come facciamo? Certo, vediamo i piloti di fama internazionale che hanno un loro casco personalizzato, ma noi comuni mortali quale soluzione abbiamo? Magari abbiamo un'idea dei colori in mente, ma siamo limitati comunque alla scelta dei colori che la casa produttrice ci offre. Bene, Hermet360 ha la soluzione al nostro problema. Grazie al loro sito infatti possiamo scegliere non solo il casco, ma anche la personalizzazione che più ci aggrada, trasformando una nostra idea, un nostro sogno in un prodotto finito. Quindi sigla e andiamo a vedere quali sono gli step per trasformare questo sogno, questa idea in un casco vero e proprio. Tutto parte da qui, da una semplice idea descritta in una mail. Il passo successivo sarà tradurre questa descrizione in immagini. Questo processo inizia su carta, facendo un veloce schizzo per avere delle linee guida per il nostro progetto. Da quel semplice schizzo si passa a una bozza vera e propria, aggiungendo colori e dettagli. Si procede con le varie modifiche, fino ad avere una versione finale cartacea. Questo disegno verrà poi replicato digitalmente e verrà stampato per avere un riferimento costante per le fasi successive. Dopo questa prima fase di progettazione si passa alla preparazione. Si prende il casco e con del nastro di carta si fa la prima mascheratura. In questo caso, la mascheratura ci serve per stabilire la direzione e l'ampiezza delle linee da verniciare. Anche in questo caso vengono fatte modifiche e correzioni, stendendo e riposizionando il nastro, fino ad ottenere una maschera che replichi fedelmente l'immagine di riferimento. Una volta stabilite le varie dimensioni, si passa alla fase successiva. Si smonta la visiera, gli interni e tutti quei componenti che non devono essere verniciati. Tutto quello che non deve essere verniciato, ma che non può essere smontato, viene mascherato con del nastro di carta. Una volta coperti gli elementi da proteggere, si passa alla parte più importante della preparazione. Il casco viene opacizzato. Viene quindi carteggiata l'intera calotta, rimuovendo lo strato superficiale di vernice lucida. Questo fa sì che la vernice aderisca perfettamente al casco. Una volta carteggiato, il casco verrà nuovamente mascherato, stavolta lasciando esposte solamente le zone da verniciare. Ed eccoci finalmente giunti alla parte più emozionante della customizzazione. La verniciatura Viene utilizzato un piccolo aerografo per fare le varie sfumature, mentre per la verniciatura viene utilizzato un aerografo più grande. Una volta assesa la vernice, si possono aggiungere altri dettagli. Come ad esempio questa sfumatura con una trama a nido d'ape. Bene, la prima mano di colore è stata completata. Adesso non resta altro che aggiungere il secondo colore, la finitura lucida, ricomporre il casco e finalmente sarà pronto. Quindi iscrivetevi e guardate il prossimo video perché insieme a me vedremo per la prima volta il prodotto finito come sarà. Già adesso è veramente fenomenale, alcune finiture che abbiamo fatto sono veramente di un alto livello. Io di nuovo ringrazio tantissimo M360 per avermi dato la possibilità di registrare questo video, quindi la loro base. E un grazie particolarmente ad Antonio perché oggi ha fatto tutto questo lavoro. E' da stamattina che siamo arrivati a fare questo casco, fra prove, disegni, bozzetti, mascherature, nastro, vernice e quant'altro. E già da ora posso vedere che il risultato è veramente fenomenale. Davvero non vedo l'ora di tirare fuori il casco finito dalla scatola e vedere come sarà il prodotto finito. Perché mi ha detto anche come vorrà fare il secondo colore e sarà una finitura davvero davvero particolare. Quindi iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video per l'unboxing ufficiale del mio casco personalizzato. Ciao!